Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi non siamo soli, siamo in compagnia, siamo con Domenico. Ci troviamo a Rocca Caramanico, borgo della Maiella in provincia di Pescara. Provincia di Pescara e il giro che faremo oggi è un giro ad anello che ci porterà all'inizio sul Morrone. Per poi Mucchia di Pacentro, cima Mucchia di Pacentro che è un 2000, bassissimo, 2001 metro, che si trova proprio sopra la località di Pacentro. Prende il nome da questo. Anello bellissimo, è una montagna che si trova separata dal grosso gruppo roccioso della Maiella, quindi del Monte Amaro e tutte quelle lì. Ve lo consigliamo? Assolutamente sì. 16 chilometri, un anellino è. Sentiero Italia per salire sul Morrone, tutta la cresta del gruppo montano che non si vede da qua. E' il sentiero Q3, si riprende il Q6 per riscendere e si arriva qui, in questo borgo bellissimo. Al vecchio cimitero. Perché si chiamerà vecchio cimitero? Poi lo scopriremo. Quindi via, si parte. Il percorso inizia nel bosco, quindi va bene, va bene perché fa caldo. No, in realtà non fa caldo, qua ci sono 15 gradi, siamo ad agosto, siamo partiti da Teramo che ce ne stavano 39, e niente, si va. Allora, usciti da questa sorta di strada bianca, il sentiero, troviamo questo cartello, andiamo verso destra. Io qua non ci sono mai stato, però come vi faceva nuotare, Domenico è in salita e siete a occhio che si parte già belli incazzati. Ma vabbè è così, perché bisogna soffrire ragazzi, ci so poco come fa. Però almeno c'è l'ombra. Siamo usciti dalla prima frazione di bosco, questa è la vista. Gran paretone della Maiella. E quel paesino lì è... chi lo sa lo scrive nei commenti. Perché noi non ce lo ricordiamo. Ascesa totale 500... Usciti dal bosco. Il 1710-1720 il bosco finisce. Adesso c'è una lunga traversata con poca pendenza in quella parte. Si arriva al rifugio che Jacopo vi ha indicato prima. Giaccio della Madonna. Sostiamo un attimo lì e poi gli ultimi 100 chilometri. Chilo. C'è un bellissimo percorso che è una delle tante vie d'accesso per il Monte Amaro, che parte dal guado di Sant'Antonio ed è lunghissimo. Io ve lo consiglio casomai a scendere. Bellissimo qua. Si scende un po' per poi risalire lì sopra. Paesaggio differente rispetto al complesso del Gran Sasso. Ovviamente qui è più simile alla laga. Meno roccia, meno roccioso. Più prato, più erba. Bello. Bello, bello. Prima tappa. Rifugio. Giaccio della Madonna. Molto bello. 1786 metri. Restaurato nel 2005. Nel comune di Caramanico Terme. È grande come rifugio. È aperto? È aperto. Eh, va bene. A parte del bivacco sarà aperto. Questa è l'interno. Su due piani. 4, 5, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, posti letto. Abbiamo lasciato il rifugio, adesso si prosegue verso la metta. Hooppa! 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 Grazie per la visione Il 13 agosto Questo è l'80 grammi d'alpinismo Ci si sono congelate le mani Temperatura bellissima Percebita credo che siamo sui 10 gradi Allora signori siamo riusciti da là Quella è la vetta del morrone Ora riscendiamo tutta la vallata Aumentando insomma Il livello totale di dislivello E risaliamo lì sopra Che si chiama Cima Mucchia di Pacentro Eravamo a 2060 Adesso siamo a 1900 Presumibilmente riscenderemo In un'altra ventina di metri Credo Per poi risalire a Quando è 2000 e qualcosa 2001 Questa viene chiamata Cima Sul Mona 2001 Questa viene lo spazio Allora ripartiamo Seguiamo questo percorso Facciamo tutta la cresta Per poi scendere E arrivare al rifugio Capoposto Rifugio Capoposto Prima di Prendere l'ultimo sentiero E andarcene abbiatamente Alla macchia Bello Bello Arrivederà il rifugio E forse E forse c'è anche una fonte d'acqua No non è vero Salve Via un po' Proviamo a entrare Siamo all'interno del rifugio Questo è bellissimo Guarda che camino Certo Certo Siamo in un posto Dove praticamente la legna È impossibile Altro vado a trovarlo Allora Qua c'è una scritta di protesta Siamo dentro al rifugio Questa è la camera da letto Vabbè molto spartano Però è un rifugio C'è un bivacco Ingresso Allora Quagliere subito nel rifugio Adesso proseguiamo Per Ragazzi Questa è la deviazione Che serve a noi Per tornare alla macchina Quindi a Rocca Caramanico Prendiamo la deviazione Q6 Per Rocca Caramanico Quindi Un'oretta Quasi in ore e venti Sei in discesa Pure in 50 minuti E siamo alla macchina Fine Giro terminato Siamo al cimitero Quindi comunque Adesso ci accasciamo qua Per i prossimi Due o trecento anni Comunque Giro della Madonna Super consigliato Vabbè Bisogna essere allenati Comunque Perché È lunghetto Abbiamo fatto 15 chilometri E 400 metri Con un dislivello Di 1216 Occhio a Occhio a chi non è munito Di GPS O comunque Non conosce bene le mappe Per l'ultima vetta Che abbiamo fatto Perché quella Sta fuori sentiero C'è pure un piccolo Saranno un chilometro Di cresta rocciosa Quindi Vedete bene Atrezzatevi Vabbè Iscrivetevi al canale Ci vediamo alla prossima avventura Grazie per aver visto il video Ciao